Pensi che si riuscirà a tesaurizzare l'esperienza di questa settimana e prolungare il lavoro anche dopo, nei mesi futuri? È molto importante, penso, seguire più intensamente tutti questi ragazzi. A livello dei Young Riders penso che sarebbe bellissimo, per esempio, riuscire a ottenere per loro un invito ogni mese in un concorso 3 Stelle per veramente abituarsi a questo livello, a saltare il percorso di questo livello tecnico. Poi per i Young Riders, anche lì, se si possono trovare almeno un concorso 2 Stelle, dove possiamo incontrarci regolarmente, è sicuro che questo ci porterà a arrivare questi appuntamenti ancora più pronti. E per i children, lì, basta seguirli da vicino in concorsi nazionali. Io, se rimano in Italia, è sicuro che mi piacerebbe creare un gruppo elitto per poter stare dietro a questi ragazzi un po' più regolarmente. Perfetto, ti ringrazio. Complimenti. Grazie.